Torna in primo piano la vicenda di Banca Etruria, 24 ore dalla prima udienza sui falsi prospetti dove sono stati chiamati a rispondere in primis proprio l'ex presidente Fornasari, l'ex direttore generale Brunchi e il dirigente Canestri, già chiamati in causa e assolti nel filone dell'ostacolo alla vigilanza. Nel mirino della procura di Arezzo sono finiti gli ex commissari Antonio Pieronti e Riccardo Sora. La notizia pubblicata dal quotidiano torinese La Stampa ha trovato conferma negli ambienti del Palazzo di Giustizia. Da tempo il pool di magistrati che la procura di Arezzo ha creato per capire meglio cosa sia accaduto intorno al crack della Banca Retina ha messo le attenzioni sul caso che per aspetti diversi finì anche in una interrogazione parlamentare promossa dall'allora deputato Maurizio Bianconi che chiese lumie al ministro dell'epoca titolare dell'economia Padovan su quella che di fatto era una svendita regalo delle sofferenze registrate. In questo caso è stato messo